I posti occupati da un mazzo di fiori sono per Jennifer e Monia, due donne abruzzesi vittime della violenza maschile. In Italia sono 84 gli omicidi di donne nei primi nove mesi del 2017 in calo rispetto ai 109 dello stesso periodo del 2016. Di questi 61 si sono verificati in ambito familiare e 31 sono stati femminicidi, termine non giuridico ma di uso comune, che identifica l'omicidio di una donna da parte di un uomo come forma estrema di prevaricazione. Jennifer e Monia non ci sono più ma continuano a vivere perché simbolo di una violenza cieca e stupida. Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne a Francavilla al Mare l'associazione Cairos ha scelto di donare al comune una targa che resterà in piazza e servirà da monito ed auspicio affinché il femminicidio e più in generale la violenza possano progressivamente sparire dalle pieghe peggiori della società. Noi crediamo che non bisogna ricordare le vittime di violenza soprattutto le donne solo il 25 novembre ma per noi come potete vedere abbiamo fatto un progetto qui a Francavilla che si chiama la panchina rossa tutto l'anno perché l'anno scorso abbiamo deposto in una piazza di Francavilla una panchina rossa che sia da testimonianza a tutte le persone che passano e possono ricordare ogni giorno questa problematica perché solo così possiamo liberare le coscienze e soledicare le sensibilità. In piazza Sant'Alfonso c'erano anche i familiari di Jennifer Sterlecchini il fratello Jonathan non vuole non può parlare del processo in corso per la morte della sorella ma rivolge un appello affinché del problema violenza sulle donne non ci si ricordi solo in occasione della giornata istituzionalizzata. Sì è giusto ricordare non ricordarsi solo in questo giorno di quanto ormai perché questo ormai è un problema comune tangibile quotidiano e quindi noi pensiamo che sia il caso di sensibilizzare appunto durante tutto l'anno le persone su questo argomento che ormai è diventato una piaga sociale.